Il libro è un'intuizione di quello che le biblioteche faranno sempre di tutti, cioè uscire dalla biblioteca, andare ad incontrare le persone dove sono le persone, non aspettare che le persone vengano, tutte queste attività. Quindi c'è un'intuizione molto forte sulla promozione della lettura che deve essere rivolta soprattutto a chi non ha già questa abitudine, quindi deve incontrare un libro e siccome lo trova lì dire magari provo a darci un'occhio. Così come è una grande intuizione secondo me quella dell'associazione Bene Comune, cioè l'idea che dalla crisi, dalla difficoltà, anche dalle difficoltà economiche, si esca provando a recuperare lo spirito di comunità.